buonasera ragazzi buonasera da istanbul faccio tra l'altro questo video i giorni avanti di giorni avanti perché perché domani mi sarà praticamente impossibile registrare sono in questo scenario pazzesco ragazzi questo è tutta istanbul sono pescherecce tutto non riesco a indicarvi grosse zone però considerate questa è sultana mette la zona un pochino più centrale famosa poi anche per il gran bazar e quant'altro insomma veramente uno spettacolo c'è qualche moschea quella che magari riuscite tipo quest'acqua che riuscite a intravedere quelle la moschea blu quindi veramente uno spettacolo alla veniamo a noi veniamo a noi perché domani anzi domani l'altro sarà anche se voi questo video lo vedrete presente domani sarà il ritorno il nostro ritorno in europa quindi sarà assolutamente una una data importante per noi tifosi viola che aspettiamo da oltre cinque anni sei anni insomma quanto è quindi è veramente un evento importante ma oltre essere un evento importante è una partita da non sbagliare il tuo ente ragazzi adesso andiamo a vederlo non è è tutt'altro che una una squadra sempliciotta semplicina da battere essi sicuramente una squadra alla nostra portata è sicuramente una squadra che vede la fiorentina superiore però è una squadra molto avanti l'abbiamo detto diverse volte di condizione ha già fatto alcune partite in campionato ha già disputato ovviamente la la conference perché ha giocato soprattutto contro il kukaricchi andata e ritorno vincendo anche molto molto bene quindi è una squadra ragazzi in condizione sta vincendo tra l'altro adesso vediamo anche gli ultimi risultati sta vincendo anche di larga misura quindi una squadra riesce bene ad andare sotto porta a tirare cosa che a noi ci manca e a segnare ed è una squadra e tra l'altro l'anno scorso è arrivata a quarta nelle redivise le redivise che vedono insomma squadre come l'ajax squadre molto molto importanti come per esempio il psv endoven quindi assolutamente una squadra e lo diciamo ormai da settimane da non prendere sotto gamba ma do che vede sicuramente la fiorentina più avanti perché se non riusciamo a superare questo preliminare di conference è un mezzo di disastro ragazzi un mezzo disastro per il mercato è un mezzo disastro sportivo per noi perché è vero che siamo tornati dopo tanto a tanti anni però abbiamo impostato anche questo anno per arrivare in fondo a con questa competizione arrivando arrivare più avanti possibile e cercare anche di vincerla quindi questi giocatori lo sanno non sarà una partita facile come detto anche perché siamo ancora lontani dalla nostra migliore condizione però andiamo a vedere un pochino quello che sarà il nostro avversario ha come detto è una squadra che l'anno scorso ho fatto 68 punti 55 gol fatti 37 subiti quindi è una squadra che subisce abbastanza gol ne ha fatti diversi anche se diciamo non è tra le migliori squadre come vena realizzativa nelle redivise perché per esempio il feiener che arrivata terza ne ha fatti 71 il psv endove in seconda 81 l'ajax 83 diciamo che il divario anche per esempio con la z che è arrivata quinta è ampio perché ne ha fatti 64 e prendo anche le ultime partite disputate dal tuente tolta quella contro il bologna che era un amichevole che tra l'altro ha vinto 4 a 1 però per esempio c'è la partita le partite del cucaricchi ha vinto 3 a 1 in serbia e 4 a 1 in in olanda ha vinto in in campionato contro il neck 1 a 0 e 3 a 0 contro il fortuna slittard quindi insomma è una squadra che segna tanto le probabili formazioni prese da sport face vedono un 433 poi vi dico le mie terracciano dodò milenkovic igor biraghi buonaventura mandragora male icone jovic gonzalez questa la propria le formazione vista da sport face vi dico invece la mia probabile formazione poi voglio vedere voglio sentire voi voglio leggere i vostri commenti alla in porta confermo anch'io terracciano secondo me sarà lui il titolare rispetto a gollini pensavo di vedere terracciano in campionato e gollini in europa così non è stato quindi siccome ha giocato ha giocato gollo gollorius in campionato prevedo un terracciano in coppa poi difesa confermo anch'io dodò milenkovic e biraghi non sa sport face forse che igor è indisponibile quindi secondo me si rivedrà quarta titolare quindi dodò milenkovic quarta biraghi quarta forse chiamato all'ultima grande chance dopo il mezzo erroraccio del della partita di campionato quindi ha sicuramente sulle sulle spalle la responsabilità di dover far bene veniamo al centrocampo io te lo butto così te lo butto così perché ci credo buonaventura mandragora e confermo anch'io titolare invece ambra bat e poi ti ci butto zurkowski ragazzi ti ci butto zurkowski secondo me vincenzo italiano vuol vederlo per bene lo vuol vedere all'azione lo butta nella mischia così lo butta nella mischia così e poi i tre davanti secondo sport face c'era jovic io invece ti dico icone nico gonzalez ma ci metto cabral è vero che cabral non sembra grosso grosso modo in condizione però secondo me avrà una chance da titolare poi pronto a subentrare luca jovic ragazzi da istanbul è tutto io vi invito a scrivere la vostra probabile formazione e soprattutto quale sarà toccando ferro il vostro possibile pronostico forza viola anche dai gabbiano che ve lo dice anche in turco jm e ragazzi uniti perché dobbiamo passare questo turno